Brian Cristante, quanto rammarico c'è? È vero che l'Atalanta riesce a testa alta da questa competizione, però... C'è tanto rammarico, abbiamo fatto vedere che ci stavamo bene, che ce l'hanno giocata a nostro livello, dispiace, dispiace davvero tanto uscire così. Grande partita contro il Borussia Dortmund? Grandissima, siamo andati al ritorno, abbiamo fatto due grandissime partite, poi una disattenzione all'andata al 91esimo, una disattenzione al ritorno all'87esimo, purtroppo siamo fuori. Però una grande Atalanta che ha dimostrato, come hai detto anche tu, di starci e starci anche bene in competizioni a questo livello, insomma, non ricordiamo chi è il Borussia di Dortmund? Abbiamo fatto due grandissime partite, abbiamo fatto vedere a tutti che quello che abbiamo preso l'anno scorso ce lo meritavamo, che possiamo starci e che dobbiamo tentare di fare di tutto per tornarci il prossimo anno. Non è facile parlare. Sicuramente dispiace, questi giorni saranno un po' così, però poi insomma già domenica dobbiamo mettere la testa sul campionato, che diventa adesso la cosa più importante. Che dire dei tifosi dell'Atalanta? Spettacolari, come tutte le partite in Europa, ma anche quelli in casa, hanno fatto davvero uno spettacolo e ci hanno dato quella marcia in più.